Nonno, questa configlia mia mamma l'ha raccolta insieme a tutte le spiglie, quindi stai attento e tieni la cara. Allora ci ha scritto auguri da parte di Antonio, tutti i cuoricini da parte di Antonio, nonna e nonno. Eccolo qua. Ilana, ilana. Ilana, ilana. Ilana lui non c'entra stasera. Che è bella questa bottiglia. Ma è bellissima. È una faccia mamma, ha disegnato Alessio. Questa è la faccia. A me non mi truccava, non vedi che io non mi trucco. È bellissima. È una cosa originale. Questa la sera gliela porta allo nonno Carmelo. Allo nonno Carmelo. Gliela metto sulla toletta così non c'è bisogno di andare in bambino. Per i miei nonni, cari nonni Pasqualino e Carmelo, auguri per i vostri quarant'anni di matrimonio. Vi auguro di compierne altri quaranta. E che il Signore vi dà cento anni di vita in più per ricevere insieme un totale di centoquaranta. Tranquilità e tanta forza per affrontare ogni cosa insieme. Se potessi con una bacchetta magica vi leggerei ogni pensiero. Vi leggerei ogni pensiero. Ogni malattia, specialmente al nonno che, poverino, con quel problema ha sofferto molto ma con la sua forza e con il suo cuore cerca di superarlo. Grazie al vostro amore. Ogni cosa è grande. la fate diventare una cosa insignificante. Come per magia. Scompare tutto. Voi siete speciali. Siete dei nonni amorevoli e consapevoli. E nel vostro piccolo cercate di accontentare tutti. E' difficile con 12 nipotini, non noi unici e non noi. sbagliato. Non lo ricordo però. Pazzerelli. Siete speciali. C'è qualcuno in arrivo? Perché avete avuto la forza di crescere al meglio i vostri sei figli. Siete dei genitori spettacolari. Io no. Infatti i figli parlano. La zia Chetti e la zia Mere sono delle donne forte come te, nonna. Gli altri zii, Alessandro, Luciano, Gino e mio padre, Daniele, sono meno come il nonno. Più o 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 meno come il nonno. Bravissimi! Ciao, mamma! Aspetta! E per questo vi state insieme. Siete state insieme. Siete state insieme. Siete state insieme fino ad ora. Per l'amore dei figli e per l'amore di chi vi lega. Ora concludo dicendovi auguri, baci da Sara. Grazie. 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 Questa è la bocchiglia e questa è la bottiglia. Nonno per me. E fa pure rima. A te ti hanno pensato bellissimo quei rima. Dici che stai sentire una roba in la sera. Dici che ti devi chiamare da mia. Mamma. Ma io non sono consiglio a nonno. Questo ti direi. Sì Antonio. Non male per l'aspetta pure. No, la borsa è riciclata, è regalo a noi. Ah, lo so. io non lo uso per il vaso di latte no 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 non bello, non fuccio la mia io andavo con me c'è buonìa fuccio a te fuccio a te la sala su no no questa è fuccio c'è 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 fuccio è un pezzerino è meno bello che non è bello è un pezzerino è meno bello ma questa non la puoi sappare questo te la devi usare un po' aspetta aspetta la devi mettere oh non 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 Ehi figlio, guarda che bella, guarda. Ehi figlio, guarda che bello colpo. Ehi figlio, guarda che bella, guarda che bello colpo. Ehi figlio, 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 guarda che bello colpo. Guarda che bello colpo. Ehi figlio, guarda che bello colpo. Guarda che bello colpo. Guarda che bello colpo. guarda che bello colpo. Guarda che bello colpo.